Peccato perché abbiamo lottato fino alla fine, secondo tempo abbiamo fatto bene, Napoli è una squadra in gran forma ma anche noi stiamo bene, è stata una partita con tante occasioni per tutti e due. Alla fine Napoli è stato più forte nei momenti decisivi, è quello che è il calcio, peccato perché abbiamo giocato bene. Per me è un duello che io vado un po' più presto di lui e dove devo mettere le mani, non lo so, lo metto qua. Per me non è una punizione, non lo so se hanno fatto per Keita o per me ma è peccato perché era un momento importante, è un momento di 1-1. Siamo stati bene in campo in questa periode fino a 80 minuti, siamo stati molto bene, gli ultimi 10 minuti quando ha fatto il gol è normale che è andato per giù ma è peccato perché abbiamo lottato. Io posso giocare con tutti, conosci tutti i giocatori bene, Youngton è un altro tipo di giocatore ma sì abbiamo iniziato, forse mi è piaciuto tanto il secondo tempo come abbiamo fatto e stiamo bene e dobbiamo continuare così. Grazie a tutti.